La conferenza del lato 3 che raccoglie i rappresentanti degli enti locali ha adottato l'aggiornamento del piano d'ambito. Prevede, di qui al 2033, investimenti infrastrutturali nel territorio della città metropolitana per un miliardo e mezzo di euro. Il nuovo piano consentirà di mantenere in efficienza le infrastrutture già esistenti e di realizzarne di nuove, da quelle più importanti come l'acquedotto della Valle Orco, il collettore per la raccolta delle acque inquinate di prima pioggia o il potenziamento dell'impianto di potabilizzazione del Po, a quelle più piccole ma altrettanto rilevanti per i singoli territori. In quelle risorse che noi destineremo di qui al 2033 alla infrastrutturazione del nostro servizio idrico ci sono queste tre grandi opere ma ci sono davvero tante piccole opere che sono però fondamentali, importanti per il nostro territorio e della nostra città metropolitana. Aggiungo che questi investimenti non solo immettono una quantità di risorso importante nell'economia complessiva della città metropolitana ma sono destinati a migliorare la nostra qualità della vita e aggiungo ancora che questo è un piano d'ambito che voglio pensare un po' aperto, nel senso che il periodo di qui al 2033 è un periodo lungo, sono 17 anni, in questi 17 anni probabilmente emergeranno altre esigenze, altre istanze da parte del territorio e noi come ATO confidiamo di poter assecondare queste ulteriori esigenze. Quindi questo è un piano d'ambito che si implementerà via via. L'autorità d'ambito numero 3 torinese è un'associazione tra 306 comuni del territorio della provincia di Torino e la città metropolitana di Torino. Per il governo è la programmazione, l'organizzazione e il controllo del servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e depurazione.